Siamo al volley, peccato, l'impresa qui è stata sfiorata dalla Prisma Taranto che ha perso sul parquet di Civitanova per 3 a 2. Anche qui c'è stato l'avvento del neotecnico serbo Travizza, il Taranto che lascia l'ultimo posto a un'altra squadra, sale in penultima posizione che significherebbe salvezza acquisita. Peccato ancora per la sconfitta al tiebreak, ma questi tiebreak sono veramente fatali per Taranto? Beh sì, è successo, però stavolta ha fatto paura, ha spaventato la Liube e si porta a casa comunque un punto di speranza.